Allora, stiamo qui a Città Atlantica, a Budacan, e in questo momento facciamo del sakebomba. Le sakebomba è una tradizione japonese. Vicente è mio, io, facciamo, e per i suoi questi, Isabella. Oh sì, è in questo momento. È per Giffra, perché andiamo, mandiamo. Ah sì, è per Giffra, oh sì, è Jessica. Sì, è Jessica, sono, sono, siano, sono, siano, le percursioni del sakebomba. Sì, 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 sì. Allora, attenzione, Vicente, alle une, alle due, alle tre, buuuuuh! Cheers! Oh!